l'esperimento un po monotono per strada fino a prendere un po di sterrato una volta lavoravo in quella zona amichevolmente chiamata la miniera in pratica un incubo meno male che è finita in pratica un po' in pratica un po' e parliamo un po di questa bici non è quella con cui ho fatto il giro d'italia ma comunque mi ha regalato grandi soddisfazioni tutto old style con ruote da 26 montata un po strana con telaio in carbonio dell'olimpia e reggisella in carbonio forcella da museo ruote decatron non sono quelle figlie perché si ingolfano un attimo in rotolamento e non hanno cuscinetti ceramici o fantascientifici ma hanno dei semplici cuscinetti che comunque funzionano freni a disco a due pistoncini rigorosamente cinesate ma è un anno che li ho e funzionano benissimo sella decatron molto comoda recentemente ho messo manubrio largo e pipetta corta un po più da discesa sono passato dal manubrio da 55 a 67 molto guidabile il vero problema della bici è il ciclista e 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 torna a Casina 22 km